E' questo. Ok, cari ragazzi, ben trovati. Allora, dunque la mia situazione è sempre uguale, mancano ancora 20 giorni prima che mi levino il gesso. E allora, visto che è un po' che non faccio niente, vi voglio parlare, così tanto per passare un po' di tempo, vi voglio parlare di navigatore, navigatori o navigatore. Allora, una piccola premessa, senza che io voglia denigrare o fare, io vi dico soltanto che la proporzione che esiste fra qualità, prezzo, prestazioni, prezzo, eccetera, dovrebbero essere più o meno valutate. Comunque, io ho avuto sia il Garmi, il TomTom non l'ho mai avuto, ho avuto il Garmi, e anche lui mi portava nei giardini della gente. Quindi, voglio dire, fortunatamente si è rotto e nella mia ricerca su internet sono riuscito a trovare un navigatore che il prezzo era molto interessante. Cioè, in poche parole, se facciamo il confronto che un Garmi camper costa sui 300, non lo so, non mi interessa, io ho trovato un navigatore su internet alla modica cifra di 45 euro. Ora magari sarà, costerà forse 50, non lo so, però, ecco, quando l'ho comprato io, costano quella cifra lì. L'ho messo, l'ho montato, l'ho collaudato, ho girato l'Italia con questo navigatore, precisione più o meno un metro, quindi voglio dire. E vi voglio un po' parlare di questo navigatore. Questo navigatore e le sue funzioni. Il prezzo ve l'ho già detto, quindi mi sembra di aver detto già abbastanza. Bene, adesso cominciamo a parlare del navigatore. Allora, eccoci qua. Il navigatore in questione si chiama X-Gody. Bene, cominciamo. Il navigatore è questo. Lo schermo è già abbastanza ampio, è un 7 pollici. No, di più di 7 pollici. Vabbè, quello che è. Allora, dunque, innanzitutto lo mettiamo un attimo sotto carica. Eccoli, così perlomeno non abbiamo problemi. Allora, quando si accende il navigatore a questa schermata. Qui abbiamo la schermata principale. La schermata principale che praticamente ci dice tutte le funzioni che ha questo navigatore. Cioè, allora, innanzitutto con questo navigatore possiamo, sul primo, avere tutta la visuale di quella che è il suo, come si chiama, il firmware, come si chiama, insomma, da cosa è composto questo coso. E ci dice la RAM, tutte le cose, la SD car che va inserita qua, c'è una fessurina dove praticamente, vediamo un po' se la tiro fuori, vabbè, quelle mini memorie, quelle ci dice la sua cosa, eccetera, eccetera. Bene. Fatto questo, abbiamo, poi, andiamo per gradi. Qui abbiamo la funzione, se noi avessimo inserito, per dire, una schedina dove ci sono dentro film, cose, eccetera, noi possiamo vederli su questa, su questa, con quel pulsante lì, su questo qui. Questa qui praticamente è un riproduttore di video. Questo qua è, anche lui, un riproduttore di video, anche lui, chiaramente, va bene. Quindi praticamente qui abbiamo due riproduttori di video, vabbè. Poi qui abbiamo la funzione FM, nel senso che noi possiamo decidere se ascoltare lui quando parla, quando parla, basta levare la spunta qua, in questa posizione, e lui parla con il suo altoparlante. Se noi siamo in macchina, per dire, o nel camper, e abbiamo la radio accesa, noi sintonizziamo, mettiamo la spunta qua, e utilizziamo la frequenza radio della radio. Quindi lui va a trasmettere la voce attraverso la radio, la sentiremo negli altoparlanti. Con questi due pulsantini qua, noi andiamo a scegliere la frequenza su cui sintonizzare la radio. Io qui, in questo caso qua, ho messo 108, ma potevo mettere qualsiasi cosa. Una volta fatto quest'operazione, diamo l'ok e lui rimane impostato. Bene, possiamo trasmettere il segnale anche via Bluetooth, possiamo trasmettere il segnale via Bluetooth, cioè collegarsi con altri apparecchi. Noi, noi di fatto ricerchiamo, se avessimo il telefono, possiamo collegare il telefono al dispositivo. Allora, abbiamo detto collegato in FM, di fatto adesso ho collegato la radio e tutte le volte che io schiaccio o faccio io la sento attraverso l'impianto della radio. Bene, poi abbiamo detto il collegamento Bluetooth. Il Bluetooth lo possiamo collegare, ad esempio, al nostro telefono e qui possiamo praticamente telefonare dal nostro navigatore collegando il telefono al coso. Possiamo sentire sia la musica, possiamo... questa è la tastiera del telefono, possiamo leggere la rubrica, ora io l'ho già collegato, quindi vedete qui io ho tutta la rubrica, possiamo ascoltare la musica, possiamo ascoltare la musica del nostro telefono e possiamo fare tante altre cose. Allora, queste sono le impostazioni, io praticamente ho messo il codice e tutte quelle cose lì per collegare i due apparecchi e poi dopodiché, niente, questo ve l'ho detto, questo ve l'ho detto, insomma è interessante la cosa perché quando si guida si ha questa possibilità di non essere distratti. ora, tanto io questo lo chiudo un attimo, ecco qua. Allora, torniamo indietro. Bene, questo ve l'ho detto. Ora, poi qui abbiamo un'altra funzione che sono le impostazioni. Qui, in questa schermata, possiamo impostare il volume, torniamo indietro, la luminosità dello schermo, possiamo impostare la lingua della cosa, quindi possiamo mettere quello che vogliamo, francese, spagnolo, italiano. Poi abbiamo la configurazione del navigatore. La configurazione, selezioni, allora, la configurazione, io ho messo automatica che si configura da solo. la calibrazione, se vogliamo calibrare la precisione del coso, io però l'ho lasciato così. Poi, qui abbiamo gli vari ingressi, quindi praticamente noi adesso nell'ingresso USB abbiamo messo la la mazzoreg sistemazione USB qui mettiamo possiamo impostare la data e l'ora una volta fatta questa operazione si torna indietro queste sono le impostazioni poi qui abbiamo gli attrezzi attrezzi cosa vuol dire? ti dà la possibilità di utilizzare qualche applicazione tipo calcolatore possiamo utilizzarlo come calcolatore possiamo utilizzare come cambio valuta cambio valuta oppure chilometri in metri in yard eccetera qui vedete ci sono tutti le yard i piedi eccetera qui chilometri eccetera quindi praticamente possiamo impostare il cambio per esempio se non vogliamo sapere quanto è una sterlina o il dollaro mettiamo dollari e cosa lui tac ci dice quanto è per dire non so abbiamo dieci sterline a quanto corrisponde insomma non l'ho mai fatto ma è quello qui abbiamo l'informazione di quanti satelliti abbiamo ora tenete presente che io sono in casa quindi c'è solo un satellite ma di solito quando siamo all'esterno ne prende sei sette otto dieci a volte anche tredici anzi qui dice satelliti totali in questo momento che lui rileva sono dodici e però ne stiamo utilizzando uno solo quindi fra l'altro poi qui ti dà le indicazioni della velocità dell'altitudine longitudine tutte quelle cose lì bene detto GPS info bene detto questo abbiamo detto qui possiamo se abbiamo messo dei film all'interno li possiamo vedere qui possiamo sempre vedere della musica che praticamente non abbiamo niente allora dentro quindi ci dice la musica che vogliamo giochi abbiamo dei giochi anche se vogliamo giocare quindi possiamo giocare boh che ne so non l'ho mai fatti io questi ma per non questo avvia livello a nulla adesso questo King tempo punteggio eccetera insomma ci sono dei giochi da poter fare e questo multimedia non l'ho mai fatto allora documenti ah ecco multimediale nel senso che se sempre lì dentro nella cosa ci sono dei delle mappe o delle fotografie o delle cose eccetera lui ce le fa vedere flash niente non c'è niente documenti e non c'è niente beh allora in questo momento non c'è niente quindi bene questo per quanto riguarda diciamo le le cose che non hanno niente a che vedere con la navigazione adesso noi andiamo a dire a vedere com'è che si naviga si schiaccia qua e si apre una nuova schermata non c'è niente che 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 che